sono dati gesù e maria e ciao a tutti carissimi amici soprattutto questo video rivolto ai cari amici abbonati al mio canale youtube per spiegare un po bene ecco tutte quante diciamo le cose che ho pensato di riservare agli abbonati specificando subito che non si crea nessuna situazione diciamo così differente rispetto a quella che è stata la mia consueta attività apostolica su youtube perché si capirà da questo video che ci sono soltanto delle cose in più che hanno gli abbonati al mio canale senza togliere assolutamente nulla a coloro che ne hanno sempre usufruito cosa c'è per quanto riguarda tutti gli abbonati quindi dal simpatizzante fino al fan ma anzitutto se qualcuno lascia un commento a un video cosa che io non faccio ordinariamente per mancanze di tempo un commento dove vuole interloquire con me gli amministratori me ne danno avviso e io rispondo direttamente al commento per quanto riguarda le dirette live stream dopo la diretta rimangono disponibili per tutti gli abbonati però quando si tratta di una catechesi per esempio della diretta viene poi elaborato elaborato un video che viene messo a disposizione per tutti gli utenti però il contenuto della diretta con eventuali anche interazioni e domande resta disponibile per gli abbonati così come per tutti durante le dirette è disponibile la chat live sapete che le chat live se vengono lasciate allo stato brado sono ricettacolo di tutto e di più ecco riservare agli abbonati mi consente di non dovermi preoccupare durante la diretta di andare a bloccare qualcuno che scrive bestemmi o cose di questo genere durante la diretta per quanto riguarda invece i sostenitori e i fan c'è diciamo così un piccolo pensierino in più cioè la possibilità di vedere i video in anteprima che cosa significa significa che se io registro una catechesi e la ne programmo la pubblicazione per per esempio domani sera o anche un'omelia o anche pubblicata che ne so per ragioni come dire di gestione del canale a due tre giorni l'abbonato in grado di sostenitore fan può vederla subito ovviamente basta aspettare il momento della pubblicazione per cui tutti la vedranno poi in contemporanea ora anche prima che ci fossero gli abbonati io alcuni video li programmavo quindi è semplicemente senza che nessuno lo sapesse perché un video programmato ordinariamente non si vede un'altra possibilità riservata agli abbonati è ci sono i post riservati soltanto a loro nella sezione dei post di youtube quindi c'è quest'altra piccola cosa e lascio alla fine la cosa che mi sembra più bella più importante e cioè un'iniziativa che ancora deve partire ma che ho intenzione di far partire che è stato preceduto appunto da un sondaggio fatto con gli abbonati del canale che è la seguente una volta a settimana poi comunicherò sui social il momento oppure con un post ovviamente su youtube riservato agli abbonati farò un rosario una corona ovviamente del rosario i misteri del giorno per esempio in cui pregherò primo per tutti gli abbonati per le loro intenzioni secondo essendo attiva come in tutte le live la chat live chi interverrà a questo momento potrà formulare in diretta le proprie intenzioni che ovviamente dirò al nostro signore e alla santissima madre leggi quello che ti scrivono questi figli per i quali sto pregando e fai due le intenzioni che ti esprimono ovviamente sempre in maniera conforme alla divina volontà è un modo sono dei modi semplicemente per creare un ambiente familiare mentre io ringrazio chi fa questo gesto totalmente libero e gratuito e liberale che va evidentemente a sostegno delle delle mie attività postoliche delle spese che queste comportano bene amici buona prosecuzione di interazioni multimediali tra me e voi sperando che siano di molto frutto e giovamento per il bene e la crescita delle anime che è l'unico motivo credetemi per cui io sono da anni impegnato in questa forma peculiare di apostolato dio vi benedica la santa vergine vi protegga e siano lodati gesù e maria grazie grazie